Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi mi andava di raccontarvi una storia d'amore nata ad Auschwitz ai tempi della Seconda Guerra Mondiale tra un SS e una prigioniera ebrea. Anno 1942. La Seconda Guerra Mondiale era scoppiata tre anni prima, quando la tracotanza militaresca di Hitler oltraggiò la corona britannica. L'out-out del governo inglese aveva ricevuto una risposta chiara, ancora prima che l'ambasciatore anglosassone riferisse l'ultimatum. Le truppe tedesche a Varsavia non avevano alcuna intenzione di andarsene. Il Führer desiderava lo scontro. In quegli anni, nonostante l'opposizione degli alleati, l'avanzata nazista fu sistematica. Come sistematica fu l'attuazione del piano di sterminio degli ebrei, oppositori politici, zingari, omosessuali e tutti coloro che potevano entrare nella categoria dei diversi. Il 1942 fu un anno cruciale nell'economia dello sterminio. Il campo di lavoro forzato di Auschwitz venne infatti ampliato per accogliere nuovi ospiti. Treni merce partivano da tutta Europa colmi di ebrei prelevati dai ghetti in cui erano stati rinchiusi. Su uno di questi treni c'era anche una giovane slovacca, Elena Citronova, con gran parte della sua famiglia. Durante il viaggio morirono tutti, bambini, adulti e anziani, tranne lei. L'arrivo al campo Al suo arrivo ad Auschwitz le furono tolti gli effetti personali e fu mandata nelle baracche insieme agli altri prigionieri, come loro avrebbe dovuto lavorare nell'edificio chiamato Canada, un centro di smistamento dei beni tolti agli internati, destinati ad essere spediti in Germania per alimentare il massacro. Ovviamente, molti di questi beni sparivano molto prima di essere giunti a Berlino, nelle tasche delle SS. La sorte di Elena era segnata. Poco dopo il suo arrivo, le autorità del campo la inserirono nella lista di coloro che sarebbero stati mandati subito nei forni crematori. Nel pomeriggio del giorno della sua condanna a morte, la Citronova, ignara di tutto, fu costretta a cantare per il compleanno di uno dei capi del campo, un ufficiale austriaco delle SS, di nome Franz Wunst. Il giovanotto rimase incantato dalla voce dell'ebrea e presumibilmente anche dal suo aspetto. Lui si innamora. Questo spietato militare, che molti avrebbero poi definito brutale, mandava biscottini e dichiarazioni d'amore a una prigioniera, come se si trovassero in un posto di villeggiatura e non nel luogo dove la morte era di casa. Elena era sconvolta e, ovviamente, non completamente refrattaria all'idea di una relazione. Molti anni più tardi, la Citronova ricordò quei giorni. Quando entrò nelle baracche dove stava lavorando, mi gettò quella nota. Sono innamorato di te. Ho pensato che avrei preferito morire piuttosto che frequentare un uomo delle SS. Per un lungo periodo c'è stato solo odio. Non riuscivo nemmeno a guardarlo in faccia. Il salvataggio della sorella. Poi, però, a Elena giunse la notizia che ad Auschwitz stava arrivando anche la sorella Rosinska con i suoi due figli. Erano gli unici parenti che le erano rimasti e così decise di fare valere l'ascendente che aveva su Wunsch per salvare loro la vita. L'ufficiale disse che purtroppo per i bambini non poteva fare niente, ma che forse poteva ancora aiutare la madre. Si fece dire in fretta il nome della donna, corse attraverso tutto il campo di concentramento, entrò nell'edificio in cui si trovavano le camere a gas e riuscì a portare fuori Rosinska prima che chiudessero le porte del forno. Aveva detto che la donna gli serviva, che avrebbe lavorato per lui. Lei ricambia. Rosinska ed Elena riuscirono a sopravvivere alla lunga permanenza nel campo, soprattutto grazie all'aiuto dell'ASS. In molti oggi si chiedono come reagirono i compagni di prigionia, che sicuramente erano a conoscenza della relazione tra Citronova e l'ufficiale. Purtroppo possiamo soltanto immaginarlo dal momento che non ci sono rimaste testimonianze che Elena non ha mai detto nulla al riguardo. Ha invece raccontato, ormai anziana e in Israele, che alla fine si era accorta di amare Franz. Per quanto incredibile e paradossale questo possa sembrare, la natura umana aveva operato un piccolo miracolo. Lo stesso ufficiale avrebbe detto, il desiderio aveva mutato il mio comportamento violento, mi ero innamorato di Elena e ciò mi aveva cambiato. Sono diventato un'altra persona grazie alla sua influenza. Ai processi di Nuremberg Quando la guerra finì e i prigionieri superstiti furono rilasciati, quando terminò la lunga marcia verso la liberazione, Elena e la sorella non dimenticarono di dover la vita a Franz, loro nemico naturale, in realtà loro salvagondotto verso la salvezza. Ai processi di Nuremberg testimoniarono a suo favore e gli salvarono a loro volta la vita. Elena e Franz, ormai morti da tempo, si separarono e non vissero mai insieme. La pace portò ad entrambi una nuova vita. Bene, questa era la storia d'amore incredibile per certi versi nata in questo luogo che tutto è, tranne che è un luogo per l'amore, però la vita è anche questo, è miracolo, è meraviglia, è tutto, è stupore. Bene, io spero vi sia piaciuta questa storia reale, comunque non inventata e vi do appuntamento al prossimo video. Un bacio a tutti da Gossip.